lei diceva che sono 40 anni che vende cappelli 42 anni la bottega ha più di mezzo secolo di storia come ha vissuto questo passaggio trasformazione della via della città fin a 15 20 anni fa si lavorava molto bene dopo ha cominciato la crisi e ogni giorno negli anni peggio e adesso con queste cose qua è proprio proprio finito ecco c'è stata un'evoluzione anche nella moda dei cappelli come le goriziane di una volta io prendevo sempre cose classiche però gorizia è una città piccola non va a cercare cose stravaganti sempre le robe classiche sia donna e uomo lei ha sempre venduto cappelli nella sua carriera sempre vissuto da 40 anni ma prima invece prima vedevo avevo il negozio di frutta e verdura dieci anni e facevo anche altri lavori ecco so che tanti venivano anche da fuori per fare acquisti da lei anche anche quest'anno no nessuno ma veniva gente quando erano l'estate che venivano i gente di fuori non sono tedeschi inglesi qualche francese austriaco veneti venivano tanto sempre fine settimana e durante l'estate così no no si lavorava poi con la ex jugoslavia si lavorava molto bene fin 92 finché c'era la jugoslavia e dopo continuava però adesso è già un paio di anni che ha cominciato la crisi come dappertutto sappiamo ho capito ho capito e c'è un particolare non so un aneddoto magari in tutti questi anni di attività che un cliente particolare sono tanti particolari sempre quella clientela molto bella buona che tornava poi era anche quello che che non comperava ma non si può mica portare il fuggiero uno viene misura prova guarda se non mi piace non compra io do da provare senz'altro poi uno decide cosa vuole fare decide cosa vuole fare ecco tutto lì ho capito e lei quindi quando chiuderà definitivamente non lo so prima dell'ultimo dell'anno ma non lo so ancora non è deciso proprio la data vediamo secondo lei si potrebbe fare qualcosa per incentivare anche il dirastello pari tornare centrale a cosa fare cosa vuole fare cosa vuole fare adesso lei cosa farebbe lei ho visto che ad esempio quando ci sono gli eventi si riaprono tante volte non era covis 19 in quella volta quando che era che si faceva quelle feste lì neanche la fiera di sant'andrea non sarà quest'anno neanche busti di frontiera e che ormai era già da tanti anni quel veniva tanta gente così ma anche tanti negozi si è chiusi ma nessuno tra i centri commerciali tra che la gente compra online online ecco online è così e tra che c'è la crisi soldi non ci sono è sempre sì senz'altro si vive se vende poi anche stagionale questa cosa quando sia d'estate che d'inverno quando piove se vende più ombrelli e cose del genere ma adesso non vede un sabato così se andiamo se torniamo andrei indietro di tanti anni qua era così